Ciao ragazzi, intanto grazie a tutti, tutti quelli che sono presentati, quelli che hanno avuto anche un po' il coraggio, purtroppo siamo in pochi rispetto a tutta la popolazione ma in tanti, considerando che è Catanzaro, che è la prima volta che siamo tutti in piazza, che è la prima volta che abbiamo il coraggio di dire qualcosa. Oggi il coraggio deve essere tanto, dovete capire che questa lotta è la lotta di tutti, i diritti sono quelli civili, quelli umani, quelli al quale tutti quanti dovrebbero poter accedere, una famiglia deve essere il diritto di ogni essere umano, non solo delle persone eterosessuali. Anche le persone eterosessuali devono dire sì a questo decreto di legge, devono dire noi ci siamo, noi siamo svegli, perché i diritti civili sono di tutti, non di un ristretto gruppo di persone. Quindi vi ringrazio di essere qua, grazie tantissimo, spero di rivedervi sempre più attivi e sempre più presenti. Passo la parola. Grazie. 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 Grazie.